Comune, consorzio delle politiche sociali e associazioni di volontariato in sinergia ad Ariano e Arpino per combattere la povertà ulteriormente aggravata dalla pandemia. Avviata la distribuzione dei buoni spesa, ogni famiglia, a seconda del reddito e dei componenti del proprio nucleo, riceverà da 200 ad un massimo di 600 euro. Più di 500 le domande pervenute a seguito del bando pubblicato all'albo pretorio dell'ente. Abbiamo preparato dei buoni da 25 euro ognuno fino a un massimo di 600 euro. Oggi le associazioni di volontariato porteranno a casa delle persone che sono collocate nell'elenco, porteranno questi buoni. Le persone possono recarsi nei negozi convenzionati e spendere praticamente questi soldi e il Comune poi li rimborserà. Ricordiamo agli esercenti commerciali che è un'occasione anche per loro, chi è nell'elenco già è convenzionato con il Comune, senza spese. Potete fare ancora la domanda in del 31 dicembre. Ricordiamo che sono 210 mila euro da poter spendere negli esercizi di Ariano Irpino. Penso che anche per i commercianti può essere un'occasione in un momento di crisi globale, si può dire.